Continua la lite tra Fedez e la Rai dopo la polemica seguita alla partecipazione del cantante al concerto del primo maggio a Roma. Dopo essere stato querelato dalla Rai, il rapper milanese rilancia, siccome Di Mare ha detto in commissione vigilanza della Rai che avrei organizzato un complotto contro di lui, io lo denuncerò per diffamazione. Parte quindi lo scontro querela contro il direttore di Rai 3, Franco Di Mare, e non ho pubblicato tutto quello che ho ancora in mano, ha detto Fedez su Instagram. Quindi speriamo che almeno in commissione di vigilanza la Rai mi faccia parlare e dire la mia, visto che c'è bisogno del contraddittorio. Sapevo come sarebbe finita e sono felice di questo perché ci sono tante cose che devono emergere. Grazie a tutti.